bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti al nuovo video oggi ragazzi vi voglio parlare di un prodotto di shimano che non è un prodotto tutto sommato nuovissimo ma comunque un prodotto che mancava nelle nostre recensioni vi sto parlando e vi voglio fare vedere da vicino il sienna della shimano mulinello economico direi perché la sua fascia di prezzo ve lo dico subito intorno ai 35 36 euro chiaramente prezzi aggiornati a oggi quindi al 2022 con tutti quelli che sono gli aumenti che abbiamo dovuto subire tutti quanti in tutte le categorie quindi mulinello comunque che rimane un mulinello di fascia economica ma devo dire che se la porta a casa ho avuto il piacere appena uscì di poterlo provare più che altro di provare l'imbobinamento di provare qualche cosina vedo dai feedback di quelli che abbiamo già venduto e che è un mulinello che se la porta a casa chiaramente ha le limitazioni dei mulinelli di questa categoria di marche blasonate quindi stiamo parlando di shimano e stiamo parlando di un mulinello che costa 36 euro 35 euro quanto sarà non si sa ancora benissimo però un mulinello che se la porta a casa disponibile in diverse misure molto interessante la taglia 500 quindi un mulinello che viene anche fatto e prodotto per una taglia molto piccola con tutte quelle che sono appunto le casistiche e gli utilizzi per quella taglia andiamo a vedere da vicino ma rimanete con noi per le mie considerazioni e consigli finali bene partiamo come di consueto dalla scatola di questo sienna vediamo la scatola rossa la scritta bianca quindi il nome del mulinello sienna c 3000 la scritta shimano da questo lato sempre la scritta sienna 3000 da questa parte invece qualche riassunto di quelle che sono le caratteristiche di questo 3000 abbiamo una velocità di recupero di 5 a 1 abbiamo un max drag di 8 kg e mezzo un peso di 250 grammi abbiamo all'interno della meccanica 3 cuscinetti più 1 e 71 sono i centimetri di filo recuperati ogni qualvolta facciamo un giro completo della manovella qualche consiglio appunto su quelle che sono le caratteristiche di capacità del mulinello andiamo a vedere il nostro mulinello lo mettiamo da una parte nella scatola non c'è null'altro che un piccolo imballo di cartone il nostro bugiardino la nostra scatola con la quale arriverà il nostro mulinello mentre vado a fissare la manovella che chiaramente vi ricordo avere il perno passante con questa controvite da questa parte ve lo voglio fare vedere ve lo racconto in tutte e quattro le facce innanzitutto l'estetica riprende molto il disegno riprende molto quello che sono i fratelloni maggiori quelli anche più costosi quindi sicuramente dignitosissimo quello che è il disegno mi piace molto bella la colorazione perché voi non so se si vede dal video ma è un nero è un nero brillante quindi è un nero metallizzato abbiamo questa parte cromata di manetta dove qua abbiamo la ghiera in polimero ma questa è dura alluminio chiaramente un knob plasticoso ma ci sta all'interno di questo mulinello vi ricordo appunto anche la fascia di prezzo di questo mulinello posteriormente molto carino molto filante questo sedere questo culetto molto molto sottile come vi dicevo che prende spunto dai suoi fratelli superiori abbiamo da questa parte una bella controvite con la placchetta nero lucido che mi piace anche molto questa e è bello anche questo contrasto nero rosso da questa parte vediamo la parte frontale appunto della nostra bobina è comunque una discreta un discreto diametro perché questo mulinello è un 3000 quindi adatto sicuramente a una pesca come potrebbe essere anche un light spinning e eventualmente un aging con chiaramente le limitazioni del caso sentiamo lo scatto della nostra del nostro archetto non troppo duro da far scattare anzi abbastanza morbido abbastanza morbida è anche la molla che tutto sommato sarà una monomolla semplicissima montata sotto questo carter andiamo a vedere la frizione abbiamo questa farfalla che sgrana parecchio cioè che sgrana nel senso che fa molto molto rumore questa cosa mi piace è una farfalla chiaramente che ha questo sistema di suono all'interno non è una farfalla schermata quindi la bobina è libera a dischi liberi quindi questa è la bobina vi faccio vedere un secondo l'alberino di questo mulinello devo dire ben proporzionato per un 3000 il rullino guida filo gira chiaramente su boccola ma scimano ci ha abituato ad avere delle boccole piuttosto piuttosto importanti e interessanti voglio farvi vedere un secondo un particolare sul discorso della bobina la bobina fatta bene sono sicuro che la stampa e l'esecuzione è uguale a tutti gli altri mulinelli è leggermente meno rifinita all'interno vedete che la nodizzazione viene appena sporcata in questo caso e abbiamo purtroppo le due cicaline quindi la cicalina del suono della frizione che non è sostituibile si dovesse rompere e da questa parte che sicuramente non si andrà mai a consumare però anche il line clip non è sostituibile come vedete la parte interna spero che si possa vedere è chiaramente meno lavorata rispetto a mulinelli che hanno un costo più alto andiamo a rimontare un secondo la nostra bobina sul nostro mulinello ha un discreto suono anche quella che è la parte appunto del suono della nostra frizione dichiarati 8 chili e mezzo di max drag esagerati su questi mulinelli mi viene anche da ridere perché comunque vengono dichiarati ma per chi vuoi per chi di voi vuole iniziare e cercare di capire un po come sono le dinamiche e quindi anche i max drag di questi mulinelli questo è il mulinello secondo me per avvicinarci giusto mi fermo un secondo per farvi due particolari cose che solitamente non guardo oppure per meglio dire guardo ma non commento perché sono diciamo quasi perfette sono mulinelli che hanno l'antiritorno infinito perché piace sono mulinelli che hanno molto gioco sul sulla corona questo ve lo segnalo perché poi chiaramente da un mulinello del genere non si può pretendere più di tanto sono mulinelli che hanno l'antiritorno infinito ma hanno piuttosto tanto gioco spero che si possa vedere quindi si muove proprio la manetta sulla ghiera sulla corona interna un'altra cosa che vi voglio fare notare è che qua abbiamo un 3000 qua abbiamo un 2000 e quindi spostiamo questo che è il 3000 e mettiamo anche in mezzo un 2005 per farvi vedere che i corpi sono esattamente gli stessi questo proprio perché le aziende facendo meno misure meno corpi meno stampi riescono a tenere dei prodotti a un prezzo più basso come vedete quindi il 2000 il 2005 e il 3000 hanno lo stesso corpo hanno lo stesso peso 250 grammi ma cambia solamente quella che è la capacità del filo chiaramente lo stesso prezzo il 2000 il 2005 e il 3000 è qua dove invece cambia qualcosina ve lo metto qua al centro è sul 4000 perché il corpo di un 4000 è di un 4000 reale quindi il peso infatti di questo 4320 grammi quindi piuttosto importante ma comunque ci potrebbe stare molto interessante è il la taglia 500 che invece mi vi metto qua al centro in questo caso perché la taglia 500 non sempre si trova in tutti i mulinelli potrebbe essere un mulinello giusto da sempre da portarsi dietro per le pesche molto leggere per la trotta torrente per il light spinning in questo caso chiaramente anche le dinamiche di chiusura di scatto cambiano avete visto quindi se io non ci vado deciso rischio di avere il mio archetto che mi rimane in questo caso alle volte un po ecco come vedete non non scatta scusate ero fuori dall'inquadratura non scatta ma questa è una cosa normale che succede molto volentieri sui mulinelli di piccola dimensione perché chiaramente le leve le leve le chiusure cambiano e quindi anche cambiano gli scatti e questa è la misura più piccina andiamo alle mie considerazioni finali eccoci tornati ragazzi allora cercherò di fare un misto fra i consigli sull'utilizzo e le mie considerazioni dovete però sempre tenere presente che tutto quello che dirò da adesso alla fine del video sono riferito a un mulinello che costa 36 euro questo deve essere assolutamente chiaro a tutti quanti fa parte ormai del mio lavoro integrante del mio lavoro fare le recensioni dei prodotti che mi capitano sotto mano cane mulinelli non solo buffetterie artificiali eccetera eccetera a me piace commentare guardare i mulinelli molto belle le cane molto belle ma ancor di più mi piace cercare di capire quelle che sono le dinamiche nei mulinelli economici perché è lì che poi si vede lo sforzo che può fare un'azienda piuttosto che no un mulinello sienna scimano che ci ha abituato a fare mulinelli molto economici molto duraturi questo vi sto parlando di molto tempo fa e ancora nell'attualità ma dobbiamo anche pensare che quelli che nascevano un tempo potevano e dovevano essere utilizzati in determinati modi alcune tecniche non c'erano l'utilizzo del treciato non c'era e quindi tutte queste dinamiche tutte queste tipologie di oggetti venivano sottoposte a degli sforzi inferiori con questo vi voglio dire consiglio numero uno secondo mio punto di vista su questi mulinelli bisogna caricare del nylon la treccia a mio parere non va bene per un sacco di cose ho notato come avete visto nel video un po di gioco sulla corona ci sta sul mulinello da 36 euro ma questo gioco potrebbe andare a ledere il tempo e la durata di questo mulinello che pur costando 36 euro se usato bene durerà degli anni sicuramente però quindi usato con il nylon chiaramente avete visto che ci sono delle limitazioni sulle leve di chiusura di questo che un 500 sul 500 ci sono sempre queste limitazioni di chiusura perché le leve gli scatti sono montati su un mulinello molto piccolo ma questo mulinello non è per tonni barracuda serra questo mulinello è nato in questa misura per essere un contenitore di filo nelle nostre pescate può andare bene per la trotta torrente una canettina da spinning da cucchiaino con il nylon dello 016 sempre ad avere lì come scorta come riserva o per chi vuole iniziare spende fra una canna e un mulinello una cifra giusta e se la porta a casa e va a pescare e ha comunque in mano uno shimano il meccanismo di questi mulinelli devo dire che non è male per quello che costano chiaramente se usati nel modo giusto questo ve lo voglio dire perché perché il 500 mulinello che è piccolino quindi ha già le sue limitazioni va bene così nelle taglie 2000 2005 3000 abbiamo dei mulinelli che oggi si usano normalmente per tutte le pesche per la pesca bolognese questi vanno benissimo una bolognese medio economica la fluidità della frizione avrà e troverà il tempo che trova ma potrebbe andare bene ma nel 2005 nel 3000 potremmo andarci uno potrebbe dire come taglia fare light spinning spinning leggero fino ad arrivare a legging utilizzando il treciato io ve lo sconsiglio di nuovo quindi questi sono mulinelli che possono andare bene il 2005 per i saraghi su una bolognese su una canna da bombarda per la pesca al laghetto ad esempio per la pesca a recupero lancia recupero con esche naturali o finte in mare il 3000 lo stesso per saraghi qualche orata dal molo dal pontile il 4000 un mulinello per una pescata media fondo leggera con un bel nylon dello 0,28 ce ne stanno circa 200 metri all'interno o per un lentino giusto per chi vuole iniziare con 20 30 grammi 40 grammi di piombo non di più vi assicuro che se lo utilizzate come vi dico io questo mulinello è sì un entry level però vi potrebbe anche durare nel tempo chiaramente una volta che abbiamo trovato in quella tecnica il nostro collocamento facciamo un salto superiore se vogliamo rimanere su shimano facciamolo perché shimano fare dei prodotti con poco più di quello che il costo del siena che però hanno delle meccaniche e delle dinamiche molto molto diverse questo discorsone ve l'ho voluto fare perché ora viene il voto la mia votazione su questo mulinello è intorno al 6 6 e mezzo se posso arrivare al 6 e mezzo lo faccio perché il rapporto prezzo mulinello va bene ci sono dei competitors che producono dei mulinelli che dove vengono concentrate molto alcune tecnologie e hanno dei prezzi che però sono un pochino più alti alcuni sono più bassi o uguali dando qualcosa in più ma come sapete non sono diciamo le aziende che tutti noi conosciamo top di gamma o leader nel mercato preferirei fare questo confronto magari in un video dedicato mi piacerebbe farlo anche per cercare di capire e cercare di trovare quelle che sono le considerazioni le differenze che ci sono su questi oggetti l'importante che voi sappiate che quando un qualcuno compra un qualche cosa di meccanico che ha tante cosine oggi a 36 euro compra paga quello che compra nel senso che è più di tanto non si può utilizzare non si può avere ma si può utilizzare sempre nel tempo senza nessun problema l'importante utilizzarlo bene scusate ma questa era una precisazione che volevo fare chiaramente i siena sono disponibili sul nostro sito internet qua sotto in descrizione li trovate li potete andare a vedere ed acquistare grazie per essere stati con noi continuate a seguirci sui nostri social mettete un like al video se vi è piaciuto condividetelo mi raccomando iscrivetevi al canale attivate le notifiche poi siamo a posto così grazie a tutti io e il siena vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi sempre